Ciao, bentornati! Bentornati in una nuova apertura all'All Surprise di questa nuova strana serie o come dovrebbe essere chiamata questa re-release perché loro, le confetti Underwraps, sono la re-release delle Underwraps ma perché se no sembrava troppo semplice, le hanno colorate come la serie Present Surprise, ci hanno messo i confetti come le confetti Pop e quindi queste sono queste, anche se hanno un pochino mischiato le cose, sono la ri-edizione di questa mitica serie io comincio subito ad aprirmela, qui vedete che c'è il falzolettone perché queste sono quelle italiane, quindi del circuito Giochi Preziosi se non c'è questo adesivo sono invece MGA, comunque si vengono dall'estero comincio ad aprirmela, nel frattempo ne parliamo un pochettino, ora vediamo un po' si è aperta bene vi dicevo questa è una serie vecchia, rifatta perché magari c'è qualcuno che, non lo so, si è affacciato al mondo delle LOL un po' dopo rispetto a chi ha cominciato come noi dalla serie 1 quindi per i nuovi appassionati che magari cercano le LOL del passato questa potrebbe essere un'ottima occasione per recuperare alcuni modelli mi è uscita questo bigliettino, questo è l'adesivo con i poteri o comunque sia le caratteristiche delle nostre LOL non serve assolutamente a niente perché sulla checklist voi troverete già scritto quello che fanno quindi nella prima serie, mi pare anche nella seconda, c'erano gli spazzetti vuoti da poter riempire con l'adesivo in questo caso invece diciamo che non hanno una vera e propria funzione, li attaccate dove volete voi non c'è l'indizio, avrete notato, l'indizio non c'è più, quindi non abbiamo più il bigliettino quello iniziale la seconda pellicola si apre sempre un po' male, chi troveremo? allora che cosa è cambiato? questa capsula voi l'avete sicuramente già vista nelle Underwraps solo che era diversa perché vi ricordate usciva l'iSpy, quella lente che serviva per individuare i codici i codici erano su una piccola leggenda, una piccola cartina e bisognava, scusate c'è una sirena di una ditta e bisognava comporre il codice segreto per liberare le cose all'interno basta, archiviati, adesso semplicemente si schiaccia il bottoncino e si aprono quindi c'è un passaggio in meno anche perché in effetti chi perdeva il bigliettino con tutti quanti i codici era praticamente doveva, penso, romperla con l'ascia le bustine di plastica non ci sono più, sono state sostituite da queste molto più tranquille, ecologiche e facili da aprire veline ma attenzione, le veline conservano, anzi racchiudono dei problemi, cioè dei segreti cioè state attenti ad aprirle proprio proprio bene perché vi potreste perdere qualche accessorio quindi srotolatele fino alla fine perché a volte rimane nell'angolino incartato qualcosa allora è uscito il vestitino, vi ricorda già qualcuno? penso che molti di voi abbiano capito di chi stiamo parlando toppino e gonnellina lilla con frangette un po' charles, sono tutte dorate ribaltiamo la nostra mortadella che con la carta bianca non è più tanto mortadella invece quando era rosa era troppo mortadella e di qua è uscita un'altra pallina di carta con dentro accessori dovrebbero esserci le scarpe scarpine, guardate un po', non soltanto le scarpine sono scarpine fuse con una collana se la collana si è un po' appiccicata, no, si è staccata benissimo collana di perle, triplo filo, sandaletti dorati questi sono veramente fusi, no, li ho staccati questo è anche ancora un po' fuso ok, sandaletti dorati oh, ho perso la punta ecco qui, andiamo a vedere che cosa ci manca da quest'altra parte un altro sportellino di qua ci dovrebbe essere il bibe eccolo e abbiamo tolto tutto? abbiamo levato tutto quanto? non so perché mi sembra che manchi un altro accessorio niente, qui sono parti di coriandoli a tutto andare questa è l'unica cosa che fa l'esplosione quando c'è la cartina, no però se vedete questo ha un che di molleggiato quindi quando lo fate partire lancia quello che c'è dentro l'altro lancio è qui bisogna tirare questa cordicella non bisogna tenerla bisogna reggerla dietro come sto facendo io in questo momento e aprirla qui vedo qualcosa vedo una bustina che nelle altre bamboline non ho mai visto quindi quell'accessorio che mi sembra essere mancante in questo caso probabilmente è qui dentro quindi questa ha un packaging leggermente diverso ok si apre così va, così improvvisamente e c'è una bustina che bello, in carta ragazzi si può riciclare basta plastica la nostra bambolina qui dentro la gommina di Cleopatra e il resto delle cose questo pure è una molla quindi quando lo richiudete e lo potete ritirare fa l'effetto appunto che spara se non volete proiettare la vostra bambolina la fissate qui nel poggiapiedini e si aprirà semplicemente senza lanciare la bambola andiamo a vedere che cosa ci manca allora questa è la maniglia della mortadella per poter riportare la lol come se fosse in una borsetta qui ci sono un po' di coriandolini questa è un'altra contaminazione perché questo è un cappellino a cono con scritto party che secondo me gli avanzava dalla linea present surprise perché non c'entra un granché con questa linea qui forse il fatto dei confetti dei coriandoli fa sì che siano delle lol da compleanno per festeggiare comunque questo stava anche nella linea present surprise continuiamo dopo aver archiviato questo con l'apertura della nostra bambolina ci siamo togliamo il cappellino a Cleopatra per scoprire questo caschettino non è Young che ha i capelli bianchi e neri ma è The Grit Baby è una bambolina molto anni 30 molto charleston appunto come vi suggeriva il vestito stesso queste gommine rappresentano dei possibili vestitini nel senso che adesso io gliela sto togliendo tutta intera ma potete smontarla e fare stivaletti gonna, maglietta, guantini potete utilizzarla per fare degli outfit in più la bambolina è questa andiamo a vederci sulla checklist se cambia colore o fa qualche altra cosa allora no lei potrebbe piangere oppure fare le orecchie laser e quindi diciamo che potreste appiccicare vicino alla checklist il suo bollino quindi diciamo che abbiamo ridato nobiltà a questo adesivo altrimenti inutile andiamo a vestirci la nostra bambolina ecco la vestita e siete pronti per il confronto ta-dan questa è la re-release questa invece è un under wraps originale cioè prima serie prima edizione la mia ha una scarpina che è rimasta nel cassetto vabbè la perdonerete cosa ha in testa? una al cerchietto con la piumina e sicuramente è questa bustina misteriosa di cui appunto io dicevo ma manca qualcosa? evidentemente negli sportellini non entrava perché appunto è un diadema piuttosto impegnativo andiamo a vedere vedo delle novità vedo dei grossi cambiamenti che mi fanno veramente molto 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 piacere e lo noterete immediatamente anche voi è cambiato il colore di questa mi sembra molto meno dorata il che è assolutamente positivo perché guardate un po' la precedente che cosa ha combinato vedete? è pitturata in maniera diversa questa sembra essere una plastica dorata questa sembra invece una plastica con del colore messo sopra che purtroppo ha macchiato la bambolina mentre invece probabilmente questa avendo un colore molto diverso dovrebbe non perdere il colore e quindi preservare il colore della bambolina invece il tipo di dorato sul vestitino c'è però il vestitino non è a stretto contatto con la pelle della bambola e quindi non crea il problema mentre invece purtroppo la coroncina si guardate qua che macchia gli ha fatto allora andiamoci a vedere anche la collanina insomma trovo che questa nuova serie abbia gli occhi molto più belli e insomma sono molto contenta di questa rirelease non riesco proprio a trovare nessun difetto se non il fatto che appunto può soltanto aiutare chi aveva quella o quell'altra lol ancora mancante nella propria collezione quindi grazie per aver visto questo video ci troviamo ancora qui per altre lol di questa serie perché appunto come vi dicevo ho tutta la box quindi le scopriremo tutte sperando di trovarle tutte 12 senza né doppi o né mancanti e niente un bacio a tutti quanti ci vediamo ancora presto sul canale di Barbara Alessandro sulla posta di Babu Channel su Mega Wow e sui nostri social Instagram e TikTok in cui ci chiamiamo Babuit ciao ragazzi un bacio a tutti quanti